Non si ferma in Sardegna la strage sui luoghi di lavoro. In un incidente accaduto attorno alle 18 in una cava situata a El Bono ha perso la vita Mario Floris, 74 anni di Tortolì. L'uomo proprietario della struttura, per causa in corso di accertamento, è stato colpito alla testa da un escavatore. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e allertatore di soccorso. Ma purtroppo per l'imprenditore non c'è stato niente da fare. I carabinieri e gli ispettori dello SPRESAL della ASL e della Nusei hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.